ciao a tutti ragazzi ben ritrovati nei miei vlog oggi rispondiamo una domanda perché il compressore sul master bus è importantissimo almeno per quello che riguarda il mio lavoro avere un compressore di altissima di ottima qualità sul master bus ovviamente il master bus è una parte molto delicata del nostro mix quindi va trattato con i guanti quindi ovviamente se dobbiamo comprire il master bus dobbiamo farlo con un gran compressore magari pensato appunto per per quel ruolo lì ci sono dei compressori appunto che sono più da mastering ok e sono più indicati per questo ma perché farlo allora è importante farlo perché il compressore da colla già metterlo nelle primissime fasi del mix aiuta tantissimo perché comprimendo ovviamente il giusto è settandolo bene perché poi alla fine il segreto è quello perché se voi tanti a volte demordono da mettere il compressore sul master bus che notano che comprimendo anche solo due tre tb il compressore toglie vita al mix si questo accade accade se il compressore se non è ben settato se voi state molto attenti e lo settate nel giusto modo vedrete che la vita era dal mix non gliela toglie quindi avrete l'effetto contrario avrete ovviamente una colla generale che prima non avevate e avete anche un po più di vita nel mix quindi già solo attivando una compressione che per quello che è il mio workflow a volte non supera i 3 4 db e quindi una roba molto 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 leggera aiuta tantissimo poi dopo quello che è il lavoro di mix dopo perché già comprimendo il master bus nelle fasi iniziali riusciamo già ad avere una sorta una sensazione appunto di mixato già di miscelato perché c'è appunto questo compressore sovrano che tiene a bada un po tutti questi elementi ovviamente lo fa carezzando perché parliamo di pochi db però questo può aiutare tanto provateci so che le prime volte può essere difficile però provate i settaggi tanti settaggi così capirete effettivamente quanto può cambiare una compressione sottile appunto sul master bus bene ragazzi io vi ricordo sempre che su improv your mix ci sono un sacco di video corsi per migliorare i vostri skills in fatto di mix e niente sperando di esservi stato utile vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti